Daspe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90 Perugia per un giorno diventerà il punto di riferimento per gli appassionati della Vespa. Domenica 14 settembre il capoluogo Umbro ospiterà il nono raduno nazionale organizzato dal locale Vespa Club. Oltre che dalla regione il raduno è stato patrocinato anche dalla provincia e dal comune di Perugia ed è stato inserito nel più ampio programma di manifestazioni riconosciute dal Vespa Club Italia. Gli organizzatori, tempo permettendo, sperano di accogliere oltre 300 Vespe. Ci limiteremo ad un breve giro turistico nel rispetto dei limiti di velocità e del codice della strada, hanno fatto sapere. I Vespisti si ritroveranno a partire dalla prima mattinata di domenica 14 alla concessionaria Piaggio di Perugia, Ciomotori, che per l'occasione diventerà il riferimento per le pratiche di iscrizione. Quindi alle 10 è prevista la partenza per il famoso Giro con le Vespe che da Sant'Andrea delle Fratte si dirigeranno prima a Corciano percorrendo la strada corcianese, poi a Magione attraverso le località di Mantignana, Villa e Soccorso e infine a San Feliciano, riscendendo poi da Monte Colognola e da Monte del Lago. In riva al Trasimeno il pranzo conclusivo sarà servito. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi